Parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita è l'obiettivo del convegno organizzato a Taranto nel centro polivalente Giovanni Paolo II. È promosso da Medicina Democratica, FIM Uniti, Giustizia Taranto, AIEA, Contramianto e altre associazioni. I dati del 2023 evidenziano un picco di malattie professionali che pone purtroppo Taranto ai vertici della classifica nazionale. I dati sono abbastanza sconcertanti rispetto al 2022, i dati sono raddoppiati nel 2023 e che destra moltissima preoccupazione. Allora cosa fare? Bisogna lavorare per sensibilizzare le nuove generazioni, unire il lavoro fra gli enti e qui nasce proprio questa bellissima collaborazione fra Regione Puglia e Ammil. Chiaramente non ci fermeremo qui, cercheremo di coinvolgere anche l'INA, tutti i comuni della provincia di Taranto e poi chiaramente si svolgerà questo progetto anche per tutti i comuni della Regione Puglia. Intendiamo richiedere anche una macchina all'interno del Consiglio regionale pugliese perché è un posto simbolo. Su queste cose bisogna fare squadra, lavorare e cercare di limitare i danni per i prossimi anni. C'è da fare un grosso lavoro ma sono certo che con la collaborazione di tutti ce la faremo. Gli anni da anni si batte per la sicurezza nei luoghi di lavoro. La banchina bianca potrebbe essere una vera risoluzione a sensibilizzare quei ragazzi che si andranno a sedere su quella banchina, sui vari territori, innanzitutto gli ionici, visto l'aumento delle malattie professionali così importante che è sopra il 30%. E ancora di più se riusciamo a svolgere questa operazione all'interno di tutta la Regione Puglia. Possiamo sensibilizzare i ragazzi e le ragazze che saranno nel nostro futuro imprenditori e lavoratori, per cui anche lì fare un lavoro di sensibilizzare in tutti i modi all'interno delle scuole, all'interno delle aziende, in modo tale che questo fenomeno innanzitutto venga zerato perché è impossibile pensare che una città come Taranto vive una situazione così drammatica, quella delle malattie professionali, molto più alte di molte regioni italiane. E questo ci spaventano un poco. In molte aziende andiamo a raccontare non la favola di Cappuccetto Rosso, ma la nostra storia, il vissuto. Quindi andare lì e far capire come si vive la disabilità, come si vive una malattia professionale, come si vive lì senza un arto o senza un braccio.